Ciao amici, oggi ci muoviamo un po', siete pronti? Certo, oggi vediamo come trasformare la sedia in una palestra. Pensateci in quanti lavoriamo da seduti e allora perché non usare la sedia per tenerci in forma e combattere la ciccia invece di accumularla? Serena ci farà vedere degli esercizi facili e leggeri che possiamo fare tutti. Basta davvero poco tempo come nelle piccole pause in ufficio o anche a casa. Adesso vediamo i migliori esercizi con la sedia per allenarsi e tenersi in forma. Ma prima vi ricordo per vedere tutti gli altri training con Serena cliccate la piccola i qui in alto oppure il link in descrizione qui sotto. Ora vai Serena con gli esercizi! Grazie a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.